Andare da Stefano Bonaccini. Caro Bonaccini, so benissimo che sono momenti difficilissimi per gli amministratori come lei, per i sindaci. Ogni giorno li collego e vedo nei loro occhi, nei loro sguardi tutto l'affanno e il dolore di questi giorni. A cosa bisogna agganciarsi per rinascere, per continuare a lottare, per sentire dentro di noi che andrà tutto bene? Sì, noi non possiamo permetterci neanche di piangere. Abbiamo bisogno di reggere, di dare anche segni di speranza. Speranza non significa che vada tutto bene, però speranza è condizione essenziale per provare a guardare al futuro. Adesso dobbiamo reggere questa situazione che da qualche giorno qualche timido segnale di miglioramento lo dà, se mai di miglioramento si può parlare, forse una parola sbagliata, però una situazione così drammatica, però qualche accesso in meno al pronto soccorso, qualche ricovero in meno in terapia intensiva rispetto a qualche giorno fa. È stato definito un decremento degli aumenti che sembrano sì, ma forse è la cosa migliore che possiamo dire in questo momento. Sì, io credo che, come molto bene Manuel ha detto, a lui va il mio abbraccio e anche di tutta la mia comunità regionale, bisogna adeguare i propri comportamenti a ciò che ci viene detto o ciò che è scritto nei decreti e nelle ordinanze. Lei ricorderà che proprio da lei in trasmissione dissi che chi si lamentava per rinunciare a un chilometro di corsa a piedi al giorno l'avrei portato a vedere i reparti di terapia intensiva negli ospedali. Non è meno importante ciò che ognuno di noi fa nei propri comportamenti ogni giorno rispetto allo straordinario lavoro che stanno facendo medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari a cui anche lei spesso dà sempre il giusto riconoscimento e credo dovremmo gratitudine eterna, ma loro più di così non possono e non riescono a fare. Dall'altra parte noi abbiamo bisogno di avere garanzia che i dispositivi di protezione individuale così come i ventilatori ci siano e arrivino. Mi pare che stiano migliorando le cose. Abbiamo avuto giorni dove purtroppo le cose proprio non funzionavano perché ne arrivavano troppo pochi. Adesso come siamo messi? Un po' meglio. Ognuno di noi cerca anche di attrezzarsi riconvertendo produzioni. Noi abbiamo offerto come regione linee guida a una decina di aziende della mia regione che stanno provando a riconvertire la produzione. Proprio da oggi e domani comincerà un'azienda di reggio ad esempio a produrre tra le 100 e le 150 mila mascherine al giorno che non bastano. Le do un dato Merlino. Per solo gli operatori sanitari e il socio assistenziale nella mia regione servono ogni giorno più di 150 mila dispositivi di protezione individuale. Poi c'è tutto il resto. Chi lavora, chi produce, chi deve essere messo in sicurezza. Ce ne vogliono milioni di mascherine. Adesso ripeto. Pare che da Roma qualcosa di meglio stia succedendo. Così come oggi arrivano voglio ringraziare il ministro Speranza e il ministro Boccia. Sette primi medici per la provincia di Piacenza nel bando nazionale fatto per la Lombardia. Qui avevamo agganciato quella provincia che è una provincia a pochi di popoli. Guardi, siamo collegati con Piacenza. Prima abbiamo mostrato anche l'ospedale militare che è stato appena montato. È arrivato l'ospedale militare. Mi sono recato con le forze armate dell'ordine, il prefetto e i sindaci pochi giorni fa, montato a tempo di record. In questi giorni arriveranno oltre 60 medici infermieri a Piacenza dal bando che come regione abbiamo fatto con una chiamata a cui per fortuna hanno risposto in tanti da altre parti d'Italia e anche dalla nostra regione. Quindi cerchiamo di dare ancora più supporto. Abbiamo bisogno, ripeto, che i dispositivi di protezione individuale ci siano nel numero necessario che serve e dall'altra parte noi cerchiamo di fare tutto quello che serve da un punto di vista del contrasto.